. Gianna Nannini in vacanza con Emma Marrone Emma Marrone passa l'estate con Gianna Nannini. Una è la regina del rock italiano, laltra una delle cantanti più popolari degli ultimi anni. Gianna Nannini ed Emma Marrone sicuramente non sono passate inosservate agli occhi del pubblico italiano, sia per il loro talento che per quanto concerne le loro forti personalità. Le due cantanti, attualmente, si trovano in vacanza insieme. . Emma Marrone gioca a fare la zia, in un tenerissimo video postato da Gianna Nannini, con Penelope, la figlia della regina del rock italiano, mentre si godono un divertente bagno in piscina. . A un team ma scrive la cantante di Seinell'Anima sul suo profilo social. Nessun segno di rivalità tra le due artiste di generazioni diverse. . Anzi, tra le due cantanti esiste un profondo rapporto di rispetto, ma soprattutto affetto. Mettendo a tacere qualsiasi cattiva voce, messa in mezzo dai soliti cialtroni. Gianna Nannini e il bagno in piscina in compagnia di Emma Marrone. . Ma non tutto è rose e fiori. Negli scorsi giorni, Gianna Nannini è stata attaccata da Emma Battaglia. Il motivo di tale attacco si rifà alla scelta della cantante di sposarsi a Londra con la sua compagna per tutelare la figlia Penelope. . . Secondo Emma Battaglia, Gianna Nannini non avrebbe fatto nulla, durante il corso di questi anni, per aiutare la comunità LGBT in Italia. . Intanto, la regina della musica rock sembra ignorare le critiche ricevute per la sua scelta di trasferirsi all'estero e si gode le vacanze in compagnia di Emma Marrone. . Le due hanno un ottimo rapporto e pare si siano conosciute durante una delle ospitate della Nannini al talent show Amici, dove Emma Marrone è stata prima concorrente e dopo ha assunto il ruolo di direttore artistico della squadra bianca. . Sicuramente, i fan delle due artiste, oltre che vederle trascorrere insieme le vacanze, preferirebbero vederle duettare su un pezzo inedito. . . .